Il Guajin fa parte di questo, nella quotidianità è un ragazzo normalissimo e quindi un rapporto assolutamente normale. No, no, mi ha sorpreso per delle riflessioni che ha fatto, quindi è anche un ragazzo intelligente e nel modo di approcciarsi agli altri mi sembra un ragazzo estremamente semplice e normale. Il Guajin può dare, che sanno dare tutti fuori classe, è un giocatore che ci può far vincere una partita non giocata su altri livelli, come può succedere a questo tipo di giocatore. Quindi per noi deve essere una risorsa aggiunta, deve essere una grande risorsa e io faccio fatica a vedere il Guajin come un problema. Io da qualsiasi lato guardo questo giocatore, io riesco a vederlo solo come risorsa. Quindi un giocatore, e poi io ho anche la sensazione che questo ragazzo, nonostante abbia fatto già tanto, abbia qualcosa dentro ancora da tirare fuori, quindi che possa anche esplodere in maniera superiore rispetto a quello che ha fatto fino a questo momento. Questa è una sensazione mia, chiaramente non è una certezza, però io questa piccola speranza ce l'ho. Grazie.